In questo video vi spiegheremo come effettuare una ricarica o avviare un abbonamento Netflix del tabaccaio. Netflix è la piattaforma di streaming online per eccellenza. Numerosi sono gli utenti che ormai sfruttano questo servizio per vedere i contenuti desiderati a una risoluzione elevata. Grazie a questa piattaforma vi è la possibilità di guardare da soli o in compagnia numerose serie tv, film, documentari, film di animazioni e tanto altro ancora in maniera facile e veloce. Una delle soluzioni migliori e più veloci per attivare l'abbonamento Netflix è recarsi personalmente a un tabaccaio. Se non avete intenzione di inserire online i vostri metodi di pagamento come Postpay o Paypal potrete direttamente recarvi presso una ricevitoria in maniera tale da attivare o rinnovare il vostro account Netflix. Per attivare il servizio di questa piattaforma di contenuti streaming, oltre ai metodi online è possibile acquistare fisicamente una carta regalo Netflix. Il colosso americano di questa azienda ha realizzato delle prepagate in maniera tale da consentire a tutti l'opportunità di vedere i propri film, serie tv e altro in maniera veloce. Non tutti si fidano a rilasciare online le proprie informazioni personali, altri invece per via dell'età non conoscono i miei metodi per attivare attraverso il digitale l'abbonamento. Per questa ragione, tramite le carte regalo Netflix si ha l'occasione, oltre a utilizzarle personalmente, di regalare un'esperienza unica e piacevole ad amici e parenti. Una volta acquistata la gift card Netflix dal tabaccaio, occorre attivarla. Le ricaricabili stanno diventando sempre più il metodo di pagamento preferito per quanto riguarda l'occasione di abbonarsi a questa piattaforma on demand, che risulta essere tra quelle più amate tra gli utenti. Questi nuovi mezzi per attivare l'abbonamento di Netflix stanno diventando quindi di tendenza, in quanto sono considerate comode da chi guarda i contenuti streaming su questa piattaforma, in quanto mediante tramite di essa non dovranno immettere i propri dati personali. Non sono altro che delle tradizionali prepagate di prezzo già stabilito e funzionano esattamente come le tessere telefoniche. Ecco perché sono disponibili presso i tabaccai. Anche le Netflix gift card si presentano come le prepagate per ricaricare i telefoni. Di conseguenza riportano una particolare argento che deve essere grattata così da visualizzare i codici che devono essere successivamente inseriti nello specifico campo presente nella pagina di Netflix, ossia sul sito netflix.com. Oppure è possibile attivare l'abbonamento facendo semplicemente l'accesso alla piattaforma tramite smartphone, tablet o altri dispositivi ed è una soluzione valida sia per gli account che devono essere creati, sia per quelli già attivi che devono essere rinnovati. Grazie. Grazie.